Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video Oggi mi ricollego al video di mercoledì di due settimane fa perché appunto come sapete il mercoledì ogni due settimane parliamo di argomenti diversi dai libri e sto parlando del video in cui vi ho parlato dei musical che sono andata a vedere a teatro quindi ve lo lascio qui se lo avete visto e avete piacere di vederlo in quel caso mi sono divertita moltissimo a leggere i vostri commenti dove mi avete scritto quale musical siete andati a vedere vi ne dico uno su tutti un ragazzo mi pare ha visto Notre Dame de Paris a Parigi con il cast originale e le music originali di Cocciante quindi anche soltanto questo mi dispiace ma mi ha battuto in pieno nonostante io ne abbia visti diversi niente è paragonabile a vedere Notre Dame de Paris a Parigi insomma comunque adesso è l'ora di divertirci un pochino di più perché vi parlerò dei musical che ho interpretato io perché faccio parte di un gruppo di giovani ragazzi che organizza spettacoli con la musica da protagonista quindi vario genere abbiamo fatto spettacoli non so dove cantavamo le canzoni Disney dedicate alle scuole abbiamo fatto gare di canto abbiamo fatto core di Natale spettacoli di varietà insomma c'è sempre la musica di mezzo diciamo e appunto qualche anno fa avevamo voglia di cimentarci in un nuovo genere e quindi abbiamo dato il via alla nostra passione musical quindi se vi interessa continuate a guardare questo video perché ci saranno tante foto imbarazzanti di me che interpreto vari ruoli cominciamo dal momento in cui abbiamo cominciato facciamo un musical all'anno perché ogni musical ci prende diverso tempo ovviamente quindi noi cominciamo tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio a lavorare sul musical distribuiamo copioni dividiamo le parti e cominciamo le prove piano piano poi ovviamente inseriamo le canzoni inseriamo i ballerini perché come insomma vi spiegherò anche dopo ci avvaliamo sempre dell'aiuto di una scuola di danza mettiamo insieme il tutto e curiamo i costumi le scenografie e poi lo mettiamo in scena lo mettiamo sempre in scena di solito a luglio in uno spettacolo che facciamo ogni anno nella piazza del nostro paese e poi lo portiamo in scena altri 3-4 volte in vari paesi della nostra zona il primo musical che ho interpretato è stato Peter Pan Peter Pan era un sogno ne parlavamo veramente da tantissimo tempo avevamo proprio voglia di metterlo in scena ed è stato diciamo un inizio scoppiettante perché è stato uno spettacolo che ci è venuto proprio bene ecco praticamente ci siamo rifatti al musical originale del quale vi ho parlato anche nello scorso video quindi avevamo per fortuna diverso materiale perché per ogni musical che affrontiamo dobbiamo raccogliere prima il materiale e vedere se è abbastanza e sufficiente per poter cominciare e questo di solito è ovviamente il copione originale perché doverlo scrivere da noi è difficile e praticamente impossibile dovremmo avere ovviamente tutte le basi quindi dobbiamo avere le canzoni, la base musicale delle varie canzoni e se possibile ci servirebbe anche un video al quale poterci ispirare e poter insomma poter riprendere delle cose sia sulle scenografie che sui costumi che su proprio la recitazione basandoci appunto sui attori che l'hanno veramente messo in scena ecco in questo caso avevamo tutto per fortuna perché ci sono stati dei musical dove avevamo molto meno ci siamo basati su questo video e quindi abbiamo messo in scena Peter Pan devo dire la verità è stato bello anche perché questi ragazzi che mi accompagnano sono veramente bravi avevamo un Peter Pan fantastico, una Wendy meravigliosa e soprattutto un Capitanoncino e Spugna veramente simpatici quindi loro proprio catturavano l'attenzione il tutto è chiaramente un musical molto simpatico, molto insomma giocherillone poi con le musiche di Edoardo Bennato ovviamente non si può che ballare ecco ogni volta che facciamo un musical in più ci avvaliamo della collaborazione di una scuola di danza quindi chiediamo ad un gruppo di ballerini di fare da corpo di ballo per alcune scene in cui ne abbiamo particolarmente bisogno e quindi loro stanno in scena sia per le parti, alcune parti recitate non recitano però insomma fanno dei personaggi e ovviamente per le parti danzate in questo musical io interpretavo due parti la prima era il cantastorie perché dovete sapere che Peter Pan comincia con una scena ambientata in un parco di Londra in cui ci sono diversi genitori che hanno portato i loro bambini a giocare nel parco ed arriva questo cantastorie che poi è un artista di strada e praticamente canta una canzone ai bambini sottolineando l'importanza della fantasia e i genitori cercano di cacciarlo perché non vogliono che i figli crescano con queste fantasie appunto nella mente ma vogliono che vengano su seri e diligenti e quindi io cantavo questa prima canzone con la quale insomma interagivo con questi ballerini travestiti da bambini e da genitori e questo ha dato il via ad una tradizione io ho sempre cantato in coro o da sola la primissima canzone di ogni musical che abbiamo fatto comunque dopo lo vedrete piccolo aneddoto alla prima del nostro primo musical io facevo la prima canzone e la base non si sa come ha tipo saltato un pezzo quindi fino a un certo punto ho cantato poi mi sono resa conto che la base aveva saltato alcuni secondi mi sono completamente persa sono rimasta setta sul palco a ballare e nel frattempo anche i ballerini sono riuscite a ritrovare il punto e alla fine abbiamo ripreso tutti insieme quindi è stata una cosa terrorizzante però insomma alla fine è andata bene e l'altro personaggio che facevo era John John Matthew General Darling il figlio appunto dei Darling e quindi era un maschio avevo questa camicia da notte abbastanza lente in modo che non si vedesse il seno ovviamente i capelli erano tirati su con una crocchia e avevo il cilindro in testa e l'ho tenuto sempre fino a quando anche quando andavo a letto perché per l'appunto non si dovevano vedere i capelli e poi avevo comprato questi occhiali rotondi ancora questi non li avevo con la montatura nera per fare appunto John e ovviamente l'immancabile ombrello che lui si porta dietro è stato divertentissimo fare questo personaggio mi sono divertita da Matti perché era un personaggio molto carico molto particolare mi ritrovavo molto in lui così precisino così intelligente e allo stesso tempo insomma ho ballato è stato emozionante è stato il mio primo musical quindi ho il cuore appartiene a questa a questa rappresentazione io ricordo perfettamente la scena in cui Peter e Wendy si incontrano per la prima volta in camera e per un insomma un tratto di spettacolo loro parlano da soli mentre io e l'altra ragazza che faceva Michael e l'altro fratello stavamo nel letto a dormire e io ricordo proprio il cuore che mi batteva nelle orecchie mentre ero lì con gli occhi chiusi ed era un'emozione bellissima cioè un'emozione che mi faceva paura ma era una paura meravigliosa il secondo musical che abbiamo fatto realizzato quindi l'anno successivo è stato Cenerentola in questo caso questo è stato il musical diciamo più semplice nel senso che è stato quello sul quale abbiamo lavorato meno perché abbiamo avuto meno tempo quell'anno infatti avevamo cominciato le nostre prove per interpretare Gris ma purtroppo non avevamo abbastanza attori e quindi appunto mancandoci dei personaggi abbiamo dovuto cambiare e alla fine diciamo il tempo si era ridotto e abbiamo optato per qualcosa di semplice dove i personaggi diciamo potessero essere adatti a noi e quindi abbiamo inscenato Cenerentola in questo caso però non avevamo niente non avevamo un video sul quale basarci non avevamo basi di canzoni perché il cartone animato di Cenerentola ha tipo due canzoni cioè i sogni sono desideri e Sala Kabula, Meggie Kabula e in più non avevamo nemmeno un copione e quindi io mi sono guardato il cartone animato e ho buttato giù il copione trascrivendo le battute in questo caso è stato l'unico anno in cui ho fatto la protagonista quindi ho interpretato Cenerentola ci siamo fatti aiutare ovviamente anche dai ballerini che interpretavano alcune scene come i camerieri per esempio e anche con l'aiuto di alcuni bambini che dovevano interpretare i topolini non avendo appunto delle basi delle canzoni abbiamo deciso di modificare le parole di alcune canzoni della musica italiana che conosciamo tutti per esempio Anastasia e Genoveffa erano ovviamente due personaggi chiave della storia e la loro canzone era stata creata sulla base di Il Gatto e la Volpe quindi per farvi un esempio la canzone cominciava così Quanta grazia quanta bellezza che c'è in noi se ci guardi per un momento lo vedrai Anastasia e Genoveffa belle come Belen con tanto savoir faire ok questo per farvi capire e quindi ci siamo divertiti molto anche a inventare le canzoni oltretutto la nostra politica è tutti devono avere una parte e tutti si devono divertire non ci deve essere nessuno che ha una battuta e un altro invece è praticamente sempre in scena quindi cerchiamo di equilibrare sempre le parti chiaramente ricordandoci chi sono i protagonisti questo è logico e quindi abbiamo inserito delle parti in più perché avevamo attori in più per esempio abbiamo aggiunto la regina accanto al re quindi i genitori del principe abbiamo aggiunto questa una storia d'amore un po' tormentata tra una cameriera del palazzo e il consigliere del re e quindi insomma abbiamo un po' riadattato la storia per renderla un po' diversa e soprattutto insomma per far per coinvolgere tutti nella maniera migliore il terzo musical che abbiamo messo in scena è stato meraviglioso un grandissimo successo qui abbiamo fatto proprio il salto di qualità ed è stato The Lion King quindi il re leone allora in questo caso cosa ci mancava? ci mancava il video perché purtroppo su internet si trovano soltanto alcune scene del video di Broadway che oltretutto non è mai stato fatto in italiano quindi sono in inglese e le basi le abbiamo trovate su YouTube oltretutto non ci sono più ora ed erano delle basi meravigliose perché avevano tutti i cori africani delle basi originali quindi mancava la voce principale però questi cori africani che danno moltissimo contribuiscono moltissimo all'atmosfera della savana erano presenti tanto erano parole per l'appunto in una lingua a noi sconosciuta e quindi ci stavano bene insomma erano perfettamente inseribili e ovviamente noi chiaramente abbiamo cantato tutte le canzoni in italiano ci sono le canzoni del cartone animato e alcune canzoni in più noi abbiamo ascoltato quelle in inglese e ovviamente avevamo però il copione con i testi in italiano quindi le abbiamo semplicemente cantate in italiano in questo caso ci siamo fatte aiutare anche da una costumista ed è stato il primo e l'unico anno perché avevamo bisogno di aiuto per creare i costumi di animali ovviamente perché siamo tutti animali quindi c'erano delle bellissime criniere abbiamo avuto timone e pumba erano personaggi fantastici insomma ognuno di noi ha avuto il suo costume fatto apposta quindi avevamo i ballerini che facevano gli animali della savana e poi avevamo le iere e chiaramente tutti i leoni in questo musical io interpretavo Rafiki ed è stato bellissimo per me interpretare questo personaggio anche in questo caso ho cantato la prima canzone del musical che è ovviamente il cerchio della vita lo canto proprio nel musical originale lo canta Rafiki quindi lo canta la scimmia e avevamo costruito in legno questa rupe che poi in realtà era semplicemente una non so nemmeno come spiegarmi comunque una salita in legno sulla quale appunto ci arrampicavamo per poi fare la scena della presentazione di Simba a tutta la savana è stato divertentissimo perché le canzoni sono divertentissime e ci sono tantissime tantissimi balletti quindi era veramente ci siamo scatenati in più c'erano anche delle bellissime canzoni tutte cantate con parole appunto africane e quindi quelle le abbiamo inserite in alcuni momenti quasi di cambio scena ecco in cui per l'appunto i leoni ballavano sotto questi cori e questi tamburi dall'atmosfera africana meraviglioso mi sono divertita moltissimo ed è stato un grande successo devo essere sincera è stato bello c'erano alcune parti veramente veramente emozionanti l'ultimo musical che abbiamo messo in scena lo scorso anno è stato aggiungi un posto a tavola se mi seguiterò un po' insomma lo avete visto perché via via lo facevo vedere aggiungi un posto a tavola a tavola è stata una rivelazione non mi piaceva all'inizio perché non conoscevo la storia e quindi la mia mamma continuava a ripetere facciamo questo guardate che è una bella storia è carino è divertente però a me non piaceva non ero convinta e quindi avevo sempre remato contro insomma mi sono guardata tipo 10 minuti di video sono morta da ridere e ho capito che quello era uno spettacolo musicale da mettere in scena e chi non l'avesse visto su youtube si trova la playlist perché è stato mandato in onda due volte se non erro sulla Rai con Johnny Dorelli come protagonista la storia non so se la conoscete tutti comunque di questo prete Don Silvestro che abita in un piccolo paese Dio gli fa visita e gli dice guarda tra tre giorni farò tornare il diluvio universale perché questa umanità mi ha completamente deluso soltanto tu e il tuo paese vi salverete dovete costruire un'arca però ovviamente per raggiungere questo scopo ci sono degli ostacoli abbiamo un sindaco ateo e che non vuole assolutamente donare il legname della sua fabbrica perché lui appunto è un imprenditore che lavora a legno per costruire un'arca nella quale lui non crede ma soprattutto a scombustolare il tutto arriverà una prostituta che insomma si insinuerà nelle vite dei vari personaggi e che vorrà insomma porterà un po' di scompiglio ecco allora anche in questo caso abbiamo inventato alcuni personaggi perché noi eravamo più attori rispetto ai personaggi che esistevano e in più abbiamo fatto alcuni cambiamenti per esempio il sindaco dato che noi siamo tante donne abbiamo pochi ragazzi il sindaco invece di essere un uomo era una donna e quindi l'abbiamo chiamata la sindaca Virginia e noi appunto tutti gli altri personaggi sono i classici che insomma se avete visto il musical li conoscete abbiamo Toto che è un po' lo scemo del villaggio abbiamo Consolazione che è la prostituta e abbiamo Don Silvestro che è il per l'appunto il protagonista e abbiamo inventato questo paio di parti in più ah e poi c'è Clementina ovviamente che è una ragazza del paese innamoratissima di Don Silvestro quindi le confessioni le scene delle confessioni erano le più esilaranti e poi abbiamo inventato due parti che erano quelle della perpetua quindi una donna che in chiesa aiuta Don Silvestro e l'altra era la segretaria del sindaco e l'ho interpretata io quindi si è inserito delle battute che ha modificato leggermente il copione ecco per adattarlo ogni anno facciamo una cosa del genere anche perché molto spesso i copioni sono veramente lunghi e noi non possiamo fare uno spettacolo di due ore e mezzo tre ore noi cerchiamo sempre di riadattarlo alle nostre esigenze però su una base concreta ecco anche in questo caso ero presente nella prima canzone che ovviamente aggiungi un posto a tavola non la cantavo come solista ma comunque facciamo parte del coro quindi anche qui c'ero subito all'inizio questo musical è stato molto bello in particolare perché avevamo diciamo siamo cresciuti negli anni siamo migliorati e lo dico con con tranquillità senza paura di essere insomma presuntuosa perché è la verità dal punto di vista recitativo in particolare io sono molto orgogliosa di come siamo diventati avevamo un Don Silvestro veramente veramente bravo avevamo una Clementina super adatta alla parte che svolgeva insomma tutti i personaggi facevano ridere quando il pubblico ride vuol dire che si è riuscito a interpretare bene perché alla fine è una commedia musicale quindi è una storia che deve far sorridere insomma è stato divertente e anche un po' faticoso perché ci sono tantissime parti recitate ovviamente quindi insomma ci siamo messi alla prova ed è stata una prova secondo me superata alla grande ma adesso passiamo al musical di quest'anno che cosa andremo a interpretare dato che sono proprio in questi giorni che stiamo cominciando ad incontrarci ed è Sister Act quindi quest'anno interpreteremo una delle diciamo delle commedie più divertenti che è stata come ho detto anche nello scorso video creata da WP Goldberg in persona e che appunto vede in scena questo insomma questo convento un po' pazzo di suore la cui quotidianità viene sconvolta da Delores Van Cartier che viene per una questione insomma di protezione viene messa all'interno del convento anche se lei con il convento non c'entra assolutamente niente le canzoni sono meravigliose quindi siamo insomma è un periodo che stiamo testando tutto per vedere di avere tutto il materiale non abbiamo i video abbiamo soltanto alcuni spezzoni che troviamo su youtube abbiamo un copione ma l'abbiamo dovuto comprare perché è introvabile su internet e abbiamo trovato le basi per fortuna anche se anche queste sono molto difficili da trovare quindi credo che alcune le dovremo comprare fatto sta comunque che ancora non so dirvi di preciso che parte farò perché nonostante ci abbiamo pensato ancora dobbiamo parlarne tutti insieme e vedere se a tutti va bene quindi ovviamente vi aggiornerò e mi farebbe tantissimo piacere se fosse possibile magari avervi alla nostra prima perché sicuramente a chi piacciono insomma questi spettacoli se la goderebbe alla grande e quindi questa è la nostra nuova avventura di quest'anno e la metteremo in scena come sempre a luglio bene ragazzi io ho chiacchierato anche abbastanza direi e questi sono per l'appunto i musical che ho interpretato spero che non abbiate riso troppo di me comunque ho cercato di trovare un po' di materiale per ogni musical perché noi facciamo tante foto riprese e così via ovviamente la parte più bella di tutte sono le prove perché con questi ragazzi ci divertiamo veramente tanto 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 ed è una delle grandi gioie della mia vita far parte di questo gruppo ed è una delle cose che mi fa star bene anche nei periodi in cui sono un po' giù quindi questo gruppo è veramente veramente importante per me spero non si non si sciolga mai e niente noi ci vediamo prestissimo con un altro video grazie come sempre per tutti i vostri commenti ciao 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 Grazie a tutti.